Hai fame? Bel tiro! Buongiorno, frittelle? Beh, grazie. Qualche anniversario? Non posso fare delle gentilezze ai miei amici? Eh, certo, ma... È che non era mai successo. Beh, c'è una prima volta per tutto, no? Però è stata gentile a prepararci la colazione. Anche se non capisce nulla di cucina. Ops, l'ho detto ad alta voce. Bello bruciato all'esterno, ma un po' crudo all'interno. Esattamente come gli scarafanti inceneriti del mio pianeta. Ancora! Che modo goloso di iniziare la giornata! Allora, ragazzi, ho pensato che dopo colazione potremmo, che so, farci un giretto per la città. Ah! Beh, eh, 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 eh... Boom!